Il mio rapporto con la città di Padia, che conosco non benissimo, ma un po' sì, ha comunque in qualche modo delle assonanze anche con la città dove sono nato, che è Domodossola, e poi con la città in cui vivo che è Milano, quindi direi che Padia proprio si mette in mezzo a questi due riferimenti. Siamo per una questione di qualità di vita, di geografica, territoriale, culturale e quant'altro e poi soprattutto per un particolare, cioè io sono un ex studente di medicina, non sono un studente di medicina della facoltà di Padia, ma avevo moltissimi amici di Domodossola che con me hanno condiviso tanti anni al collegio Rosmini e che invece hanno scelto Padia come facoltà. Io scelsi Genova per motivi familiari, comunque i racconti di Padia li avevo, chiaramente abbiamo fatto tanti concerti nella città e spero tanti ne faremo ancora e qualche volta, chiaramente al di là del lavoro, anche sono venuto proprio per questo rapporto con gli ex amici studenti liceali. Spero di ritornare prestissimo con un mio concerto. Grazie. 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 Grazie.